Pensando a quel primo giorno da Presidente, adesso cosa gli viene in mente? Ma diciamo che oggi è difficile esprimersi in questo momento, emozione grande, abbiamo una squadra che è bellissima perché non hanno mollato neanche un secondo e questo è una grande cosa. Io come Presidente devo dire che non mi aspettavo una cosa del genere, grande emozione, ho poche parole da esprimere. Questa Coppa è molto significativa perché abbiamo messo un altro trofeo all'interno della Pallavolo Padova, l'anno scorso Scudetto Under-14, quest'anno abbiamo preso la Coppa Italia, credo che stiamo facendo tutti quanti bene, società, giocatori, quindi è un grande applauso a tutti quanti. Ho chiesto ai giocatori, al coach, adesso lo chiedo anche al Presidente, una dedica personale, chi è che la vuole fare? Beh sai, questo io credo che la voglio dedicare a Stefano Santuzza perché credo che sia la persona che sta soffrendo di più, e quindi credo che forse sia la persona che si merita di più tutto questo perché oggi Pallavolo Padova è quello che è, vorrei dire che la maggior parte del merito è per Stefano, quindi la dedico a lui, se lo merita. Grazie e buoni festeggiamenti. Grazie.